L'aumento della fauna selvatica che l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nel Milanese ha drammaticamente portato alla ribalta per le ripercussioni sull'incolumità delle persone è un problema che gli agricoltori segnalano da tempo. Anche nel territorio emolese il numero di ingulati è in crescita e sempre più spesso gli animali cercano nuovi spazi e raggiungono aree di pianura. Per il presidente di CIE agricoltori italiani di Imola, Giordano Zambrini, il controllo numerico degli esemplari è una necessità, anche perché gli strumenti di prevenzione come le reti a difesa delle culture non sempre sono risolutivi e il risarcimento raramente copre l'intera entità del danno. Anche nel nostro territorio il problema della fauna selvatica, specialmente per gli ugulati, è comunque un problema molto sentito e molto diffuso nella nostra vallata e nel nostro territorio. Noi da anni la nostra organizzazione denuncia questa difficoltà per le nostre imprese che sono costantemente colpite e devono subire danni da faruna selvatica. È chiaro che oggi più che mai dopo l'evento, il tragico evento che tutti ormai abbiamo sotto gli occhi, c'è bisogno comunque di rivedere un po' la gestione di questi animali per poter poi dare una risposta oltre alle aziende ma anche all'incolumità delle persone che sui nostri territori vivono tutti i giorni. Grazie. Grazie.